Ciao a tutti, ciao a tutti, io mi chiamo Keita Mori, ho 19 anni, ho partecipato ai laboratori del teatro del mondo dal 2016 fino ad oggi e parteciperò sempre per loro e ci sarò sempre per loro perché sono delle brave persone che aiutano le gente, che mi hanno sempre aiutato a capire le cose, la cosa più importante che ho imparato da loro è la felicità, è la cosa più importante poi vengo dal costo d'avore io e vivo a Faenza, lavoro a Faenza, metà meccanico, poi gioco anche a calcio poi per le difficoltà io non ne ho adesso, due o tre mesi fa avevo un po' di difficoltà per la casa però grazie alle brave persone che mi hanno sempre aiutato, poi adesso oggi ho la casa, vivo, lavoro, faccio tutto e quindi io sto bene, per altre difficoltà non ne ho adesso, poi per la storia di Covid tutti insieme ce la faremo ciao, sono Keita